Io non ho incontrato in queste settimane neanche una mamma che avesse dichiarato disponibilità a portare i bambini a scuola comunque, tuttavia mi capita di vedere un'intervista ad una mammina con una bella mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi, la domanda del giornalista lei che cosa dice per la chiusura delle scuole? Risposta, la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma io voglio andare a scuola per imparare a scrivere credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola, è l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a scrivere, perché mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli endecasillabi cioè questa povera figlia evidentemente è un OGM, è cresciuta dalla mamma con latte al plutonio